Ciao a tutti da Pierluigi Valducci, il mio abbraccio va a tutti coloro che amano e utilizzano le corde Dorazio, Dorazio Strings, e il mio sentito ringraziamento a quest'azienda italiana che produce corde meravigliose come le mie nickel plated che ormai utilizzo con immenso piacere e soddisfazione. Ancora ciao! Grazie a tutti!